Ciao da Autoriparazione Nova Carta, la migliore amica della tua auto. Oggi voglio parlarti della sicurezza e della sanificazione di tutti i nostri locali, per la sicurezza nostra e di tutti i nostri clienti. Questo come puoi vedere è uno dei nostri upici dove effettuiamo tutta la parte contabile e ogni giorno effettuiamo la sanificazione dei nostri locali. Con il nostro sanificatore ad ozono effettuiamo la sanificazione di tutto il locale. Come potete vedere questo è l'ufficio primario e anche questo viene giornalmente sanificato con il nostro sanificatore ad ozono, così per avere la massima sicurezza per noi e per i nostri clienti. Tutte le nostre postazioni di lavorazione sono dotate di gel igienizzante e anche di un altro gel spray che ha un'alta contenuto di alcol in modo da igienizzare tutta la postazione lavorativa ogni giorno. Tutti i nostri addetti lavorano con mascherina di protezione e con guanti di protezione, però è importante avere anche la protezione per tutti i nostri clienti. Questo è il passaggio che abbiamo studiato per effettuare il pagamento in sicurezza e per non avere il contatto direttamente col cliente che può pagare direttamente dalla sala d'attesa. Abbiamo adeguato la nostra struttura già dall'ingresso principale con le varie segnalazioni di sicurezza per mantenere la distanza e rispettare la normativa ministeriale. Come si può vedere già dall'ingresso nella nostra sala di accettazione abbiamo delimitato per avere la giusta distanza di sicurezza, le due postazioni sono divise con la giusta distanza e le segnalazioni a norma di legge. Abbiamo anche l'apertura dove possiamo effettuare il pagamento direttamente senza entrare nell'ufficio accettazione dove abbiamo anche la postazione per avere i guanti, le mascherine e l'igienizzatore. Anche nel nostro ufficio vendita giornalmente viene effettuata la sanificazione dei locali, sempre sanificazione ad ozono per avere una sicurezza totale per noi e per i nostri clienti. Abbiamo anche adeguato la nostra postazione di vendita, modificato in modo da avere una sola postazione, un divisorio per avere la massima sicurezza per noi e per i nostri clienti, la postazione dove si può avere un igienizzante e anche l'igienizzante spray con i relativi guanti e mascherina. Come puoi vedere lavoriamo in completa sicurezza per noi e per tutti i nostri clienti. Come hai potuto vedere stiamo lavorando in completa sicurezza per noi e per tutti i nostri clienti. Ti aspettiamo qui nella nostra sede a Trecate in via Montarone 7, Autoriparazioni NovaCart. Puoi anche seguirci su tutti i nostri canali social, il nostro sito www.novacartauto.it e le nostre pagine YouTube e Facebook Autoriparazioni NovaCart. Ti aspetto qui nella nostra sede. A presto!